E' necessario occuparsene, si fa tutto il possibile, continua a raccogliere e lamentere dei singoli, si fa fatica ad essere gruppo. Adesso facciamo l'impossibile, occorre isolare questi soggetti ed educarli. I commercianti chiedono un atto di interesse pubblico prima che come singoli si abbandoni il centro storico. Noi come Confcommercio stiamo attivamente operando per far rivivere il centro ed insieme al comune di Modica e le altre istituzioni presenti in città non demordiamo. Così il presidente della sezione modicana di Confcommercio Giorgio Moncada in un post ha sollevato la questione legata ad un episodio non certisolato che ha riguardato nei giorni scorsi via Grimaldi, centro della movita cittadina dove alcuni giovanissimi probabilmente minorenni si sono scontrati a colpi di calci e pugni. Residenti preoccupati così come i commercianti e la necessità di fare qualcosa, anche perché lo ricordiamo appena qualche settimana fa si era registrata sempre in pieno centro storico una rapina ai danni di una tabaccheria proprio nelle ore in cui famiglie e cittadini si riversano nel centro della città per trascorrere qualche ora in relax. Fare qualcosa da subito per interrompere una spirale pericolosa.